Ero qui che stavo guardando. Ah stavi guardando? Il signore stava guardando? Stavo guardando. Il signore stava guardando qui eh? Tenga giù le mani eh. Adesso lo dico a tutti adesso. Vediamo un attimo se il signore stava guardando. Eh perché io sono stupido. Il signore stava guardando. Il signore qui presente non stava facendo niente. Una scena da grandi magazzini, celebre pellicola degli anni 80, quella che si è consumata a Esernia l'altro pomeriggio in un negozio di abbigliamento. Protagonista un uomo del posto che dopo aver salutato i commessi si è diretto verso il reparto pantaloni e ha scelto il modello che più gli piaceva per poi entrare all'interno del camerino. Dopo qualche minuto è uscito dalla cabina prova con un'aria insoddisfatta salutando così come aveva fatto all'ingresso si è diretto verso l'uscita. Un dipendente del negozio però si è accorto che c'era qualcosa di strano. Il colore del pantalone che indossava era completamente differente rispetto a quello che aveva all'entrata. A questo punto si è avvicinato all'uomo e gli ha chiesto spiegazioni. Intanto gli altri colleghi hanno chiesto l'intervento dei carabinieri attraverso una chiamata al 112. I militari del nucleo radiomobile, arrivati nell'attività commerciale, hanno bloccato il ladro di pantaloni e lo hanno denunciato per furto aggravato. L'uomo infatti all'interno del camerino era riuscito nella non facile operazione di rimuovere l'antitaccheggio dal capo di abbigliamento. Il soggetto è già noto alle forze dell'ordine, si tratta di un isernino che non vive in condizioni di indigenza. Insomma, quel pantalone lo voleva rubare non perché ne avesse bisogno, ma per il semplice gusto di indossare un modello che gli piaceva di più. A tradirlo però il cambio di colore, ma del resto si sa, alla moda non si comanda.